Eccezionale scoperta di un'equip di archeologi dell'Università del Salento presso la colonia romana di Aquinum, più precisamente nell'area archeologica di Castrocelo. Durante la decima campagna di scavi sono state portate alla luce tre splendide teste di marmo di età romana, tra le quali potrebbe esserci quella di Giulio Cesare. L'eccezionale ritrovamento è avvenuto nel corso delle periodiche campagne di scavo dirette dal 2009 dal professor Giuseppe Ceraudo del Dipartimento di Beni Culturali dell'Università del Salento, su concessione della soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio per le province di Frusinone e Latina e Rieti. La campagna ha consentito di indagare un nuovo settore nel cuore della città romana, in prossimità delle rovine ancora emergenti del teatro, del Tempio di Diana e delle grandi terme centrali. Grande l'entusiasmo degli archeologi dell'Ateneo Salentino, quando durante gli scavi è stato portato alla luce un pezzo di un portico monumentale, verso la lettura delle foto aeree. Entusiasmo che è poi diventato indescrivibile quando sono emerse dal terreno tre splendide teste marmoree. La prima frammentaria di un personaggio maschile barbato, molto probabilmente il volto di Heracle. La seconda un austero volto femminile con la testa velata ed una terza, ancora maschile, di particolare raffinatezza. Quest'ultimo volto merita particolare attenzione, non solo per l'alto livello stilistico, ma soprattutto perché ad un preliminare e suggestivo esame sembra avere una forte somiglianza con i rari ritratti di uno dei protagonisti indiscussi della storia di Roma, il grande Giulio Cesare. Si tratta, precisa il professor Ceraudo, di una scoperta eccezionale. La prosecuzione delle ricerche potrà servire da volano per una migliore conoscenza e tutela del sito di Aquino. Tutte queste attività svolte all'interno dell'area archeologica, spiega il sindaco di Castrocello, Filippo Materiale, sono frutto della decisa volontà di valorizzare il patrimonio storico e culturale di Aquinum, operando nel rispetto delle diverse competenze professionali.